Per il comune di Cariati abbiamo ascoltato due di loro, dal proposito dobbiamo registrare e dire che non abbiamo potuto intervistare il candidato dell'alternativa Filomena Greco per impegni suoi personali, infatti ci ha mandato una comunicazione che leggiamo testualmente, comunichiamo che per impegni precedentemente presi Filomena Greco, candidata a sindaco per la lista all'alternativa, non potrà partecipare alla registrazione della trasmissione. Inoltre, continuo alla nota, vogliamo comunicarvi che il calendario fino al 5 giugno è già pieno, quindi ci scusiamo anticipatamente di non poter partecipare alle vostre trasmissioni. E' questo in base alla delibera 137 del 2016 dell'Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni che disciplina gli spazi di comunicazione politica per questa campagna elettorale, non pregiudica comunque per gli altri due candidati che sono Alfonso Cosentino, per il PD, la scelta ed Assunta Scorpiniti per Cariati Pulita, di poter partecipare con queste interviste che adesso andremo a sentire a questa trasmissione. Chi è Alfonso Cosentino? Alfonso Cosentino è un professionista che ha svolto la sua attività professionale come manager pubblico nella sanità pubblica come direttore generale, direttore amministrativo, direttore dell'ospedale di Cariati, un imprenditore autentico, mi si consenta di dire, perché ho fatto impresa comprando danaro, investendolo e restituendolo alle banche. Non abbiamo sicuramente avuto contributi pubblici fino a questo momento per fare le nostre attività e le nostre aziende. Abbiamo lavorato con tanta passione, con tanta voglia di dedicarci a questo territorio, abbiamo investito in questo territorio in maniera seria, onesta e corretta. Assunta Scorpiniti si candida a sindaco della sua città di Cariati, ma Assunta Scorpiniti chi è? Assunta Scorpiniti è una persona che ha un forte legame con il territorio, è una persona che riassume su di sé un po' tutta la storia e l'identità del popolo calabrese, e cariatese in particolare, è una persona che ha scelto nella sua vita l'impegno civile attraverso la ricerca, lo studio, la narrazione e la lotta per i diritti delle persone. cose che ho sempre fatto con altri sistemi che adesso intendo portare avanti anche con l'impegno diretto in politica nella coalizione Cariati Pulita. Da futuro sindaco di Cariati, nel settore turismo come intenderebbe procedere? Guardate, il turismo è il settore che mi appartiene sicuramente, è sempre in evoluzione, noi lo seguiamo nelle sue varie evoluzioni, noi riteniamo che Cariati sia sicuramente una cittadella turistica, una destinazione turistica di primo piano, di primo livello del panorama calabrese, in modo particolare nella fascia ionica, che ha tantissime potenzialità e si può sicuramente esprimere al meglio, invertendo completamente la situazione economica del paese e creando opportunità per i calabresi, per i cariatesi, per i giovani che credono nel loro paese, che vorrebbero investire in questo paese, che vorrebbero poter trovare dei posti di lavoro in questo paese. Noi Cariati la possiamo far diventare veramente una grande destinazione turistica, allargando la sua stagionalità e facendo più che altro anche un turismo residenziale, il turismo della terza età, residenziale, che è foriero di grande evoluzione. Il tempo che mi dedicate è troppo breve e quindi è complicato spiegarlo, ma avremo occasione di spiegarlo ai nostri cittadini e ai nostri elettori. Per la verità mi sarebbe piaciuto poter avere un confronto con gli altri miei competitor, Filomena Greco e Assunda Scorpiniti, per poter discutere di queste cose. Io avrei voluto una competizione elettorale con una lista unica in questo paese perché sono tante le difficoltà, tanti i problemi e poco i vantaggi, ma sono tutti problemi facilmente risolvibili se ci si pone in maniera seria verso le problematiche del paese, se si ricerca di risolvere le problematiche del paese e non invece perseguire vecchi modi di fare politica e di perseguire interessi di pochi a discapito dell'interesse comune della nostra collettività. Per Cariati il turismo è importante, diverse volte bandiera blu, una cittadina ridente dell'Oionio Cosentino, di tutta la fascia ionica. Quindi dicevamo turismo è un settore importante e trainante. Quali sono le proposte di Cariati Pulita per il turismo a Cariati? Le proposte sono molteplici, però partono tutti da un'idea di normalizzazione della nostra cittadina. La nostra cittadina purtroppo negli ultimi anni ha attraversato un declino per quello che riguarda i servizi, per quello che riguarda proprio la civiltà del territorio e allora noi partendo da questo, da questa normalizzazione, vogliamo semplicemente aggiungere valore intorno alle cose che abbiamo e sono bellezze naturali, paesaggistiche, abbiamo un'area archeologica, abbiamo un'identità ricca, un'enogastronomia, abbiamo monumenti, abbiamo sapienze, abbiamo prodotti artigianali. Noi dobbiamo soltanto cercare di valorizzare quello che abbiamo e cercare di normalizzare la città perché puntiamo al turismo come bene comune, puntiamo al turismo che possa attirare flussi turistici di persone che amano i piccoli luoghi, che amano gli itinerari religiosi, che amano le bellezze identitarie. Per cui la nostra idea è quella di realizzare un progetto che guardi anche al territorio, soprattutto all'intero Basso Ionio e fare un'offerta proprio di rete, di paesi, di comuni che possano veramente rilanciare non soltanto Cariati ma l'intero territorio e proiettarlo verso il mondo perché abbiamo tante risorse, tante bellezze, dobbiamo solo trovare il modo per proporlo insieme. Uno dei settori che ha visto Cariati soccombere purtroppo negli ultimi anni è quello della sanità. Quali sono le azioni che intende portare avanti? Cariati purtroppo in effetti con la perdita dell'ospedale ha avuto una battuta d'arresto gravissima, ma l'ha avuto una battuta d'arresto tutto il nostro territorio, anche perché l'ospedale della Sibarite non sta sorgendo, non si sta costruendo, sono passati più di dieci anni dalla decisione di realizzare un nuovo ospedale. Io in un primo momento ho proposto di fare gli ospedali riuniti, Cariati, Rossano, Corigliano, Trebbi Sacce, questo non è stato fatto. Sicuramente è necessario che i sindaci, tutti i sindaci di questo territorio, prendano in mano la situazione e diventino interlocutori seri, interlocutori credibili della regione Calabria, rivendicando servizi di qualità, i servizi attuali che ci sono, verificando, andando a controllare quello che accade nelle strutture ospedaliere, quello che accade in tutti i servizi ospedalieri e anche territoriali. E questo è il modo nuovo che bisogna adottare da parte dei sindaci in maniera che siano veramente garanti per i loro cittadini, per i diritti che competono ai loro cittadini. Un'altra cosa, bisogna da subito interloquire con la regione Calabria per che i lavori del nuovo ospedale possano partire, andare a verificare concretamente le condizioni della ditta che si era aggiudicato i lavori e se non è possibile procedere con la ditta appaltatrice, immediatamente provvedere a un nuovo appalto per poter realizzare la struttura. La sanità è una tematica importante per Cariati che ha visto nel corso degli ultimi anni, così come altre realtà, si è vista scippata di un ospedale, non cosa di poco conto. In questa tematica molto importante, il diritto alla salute e quali sono le azioni che porterete avanti? C'è un grande bisogno sanitario a Cariati, ma in tutto il territorio. Quando sono stati fatti i piani di rientro, sono stati fatti queste riorganizzazioni della ditta ospedaliera, si è chiuso Cariati, Trebisacce, non si è tenuto conto che questo avrebbe avuto ripercussioni negative anche sugli ospedali che poi sono rimasti, Rossano e Corigliano. Per quanto riguarda la nostra zona la situazione è questa, c'è molta immigrazione sanitaria, c'è anche una certa affluenza verso il privato e c'è una forte incidenza dei tumori. Noi chiediamo, chiediamo con forza e cerchiamo anche di intraprendere delle azioni di territorio, ripeto, perché quando fu chiuso l'ospedale o quando si paventava almeno questo, sono state fatte delle azioni campanilistiche. Noi siamo contro questo, noi vogliamo assolutamente che il territorio non sia più diviso ma sia unito per la lotta per i diritti, in questo caso il diritto alla salute. Vogliamo che ci sia, che vengano ripristinati i livelli essenziali di assistenza in tutto il basso ionio. Noi abbiamo dei progetti anche per far fronte nell'immediato a questo bisogno sanitario con la collaborazione dei medici di base, vogliamo creare per il momento degli ambulatori solidali, vogliamo dare delle risposte immediate, però il nostro deve essere un impegno a tutti i livelli, un impegno di territorio per ripristinare questo diritto alla salute, per capire perché ci sono tanti tumori. Vogliamo infatti, noi chiediamo anche un centro epidemiologico territoriale che ci dia una risposta a questo e vogliamo anche frenare questa immigrazione sanitaria che svuota ulteriormente di risorse anche la nostra Calabria. Capito l'ambiente, anche qui diverse problematiche che Cariati come potrà superare nel sindacato di Alfonso Cosentino? L'ambiente è la cosa fondamentale, io faccio turismo e vivo di ambiente, ci ho sempre creduto in un ambiente verde, in un ambiente sano, in un ambiente accogliente. La mente va subito ai rifiuti urbani, noi siamo in contatto con Saracena, noi vogliamo adottare a Cariati il sistema Saracena. Con il sindaco Mario Albino Gagliardi, mio amico da 40 anni, abbiamo già parlato, abbiamo già concordato che dovrà farci da tutor nell'avvio di una gestione in house dei rifiuti con un ciclo completo dei rifiuti stessi e quindi l'avvio della differenziata e i rapporti diretti col Conai e il sistema Saracena. Basta dire che il sistema Saracena è il migliore che c'è attualmente in questa nostra regione, noi lo vogliamo trasferire integralmente a Cariati con la speranza che anche gli altri comuni viciniori possano con noi realizzare lo stesso circuito perché più siamo, se riusciamo a realizzare questo circuito con una popolazione di 40.000 abitanti e allora il circuito è perfetto. L'ambiente, gestione dei rifiuti, valorizzazione del territorio e dell'ambiente, quali le linee guida della vostra coalizione? La nostra coalizione vuole fare ciò che né politici di maggioranza né di opposizione hanno mai fatto e cioè far partire veramente il discorso di una civiltà del territorio e di una tutela dell'ambiente, proprio a partire dalla riorganizzazione di questi servizi. Noi proponiamo l'istituzione di un'azienda multiservizi che si occupa della gestione delle acque e della gestione dei rifiuti. Vogliamo far partire la raccolta differenziata ma con serietà, cosa che non è stata fatta. Noi attualmente conferiamo con il sistema regionale il 100% dei rifiuti. Intendiamo fare in modo che ci sia una, di conferire il minimo dell'indifferenziato però la parte organica vorremmo che diventi con dei sistemi di compostaggio che sia utilizzata anche in loco col sistema dei fertilizzanti. Ci sono degli enti preposti che possono anche collaborare con noi in questo e soprattutto vogliamo anche avviare azioni di riciclo dei materiali. Vogliamo far partire l'isola ecologica che abbiamo e non è mai partita. Vogliamo sicuramente fare in modo che i rifiuti non siano un problema che attanaglia le nostre stati e anche il nostro presente di tutti i giorni ma che siano una risorsa, che possono creare anche delle occasioni di lavoro e siano veramente un elemento di civiltà per il nostro territorio. In clima di ristrettezze economiche, tagli dei governi verso gli enti locali, c'è la problematica che riguarda le finanze, le casse comunali. Per risanare le casse comunali di Cariati cosa farà? Ma per risanare le casse innanzitutto ci vuole molto ordine, innanzitutto ci vogliono degli uffici efficienti perché se c'è una situazione, l'attuale situazione probabilmente dipende anche da qualche dirigente finanziario del comune. È forti dubbio che la prima cosa da mettere in campo è quello di andare a trovare fondi extra bilancio, quindi fondi comunitari, fondi diretti da Bruxelles, fondi per il tramite della Regione Calabria e quant'altro. E poi ordine e precisione nella riscossione. Ma c'è da dire che Cariati è una situazione di predissesto purtroppo e c'è chi propone, una volta insediati, di arrivare ad una situazione proprio di dissesto per fare intervenire poi lo Stato. Noi invece non vogliamo questo. Noi intanto aspettiamo di insediarci per vedere qual è la reale situazione, per vedere dove possono esserci degli introiti, dove si può tentare di risanare. Perché vogliamo anche essere garantisti verso i fornitori, verso i creditori che hanno collaborato con il nostro comune. vogliamo fare in modo che riducendo le spese, come ho detto prima, perché ovviamente conferendo, anche riorganizzando i servizi con altri sistemi, si arriverebbe a una riduzione delle spese. Quindi sicuramente per il comune ci sarebbe più possibilità. Noi vorremmo fare in modo che risanare il comune come se risana un'azienda, abbattendo gli sprechi, lavorando sui costi, e fare in modo che venga risanata la situazione. Noi una volta dobbiamo andare lì prima, quindi cercheremo di risanare il più possibile e cercheremo anche di essere garantisti verso i fornitori e verso tutti. È un tema molto importante questo, su cui noi dobbiamo lavorare molto. Parlava di macchina comunale, quindi ha accennato, ci sono comunque evidenti limiti alla macchina comunale, come intervenire? Ma la macchina comunale di Cariati ha dei dirigenti sicuramente capaci e bisogna metterli in condizione di lavorare bene, di lavorare sereni. Nella prima fase, dal momento che non si possono sicuramente fare assunzioni, potenziare il personale eccetera, noi dovremmo farlo collaborare da professionisti esterni che sono vicini alla nostra iniziativa di rilancio del Paese per consentire una maggiore efficienza della macchina comunale. E poi bisogna migliorare assolutamente l'accoglienza nel Comune di Cariati. I cittadini quando arrivano di fronte negli uffici comunali devono sentirsi cittadini con i loro diritti che non devono assolutamente trovare nessuna resistenza, ma la più totale disponibilità da parte degli uffici. La macchina comunale ha sicuramente dei limiti. Infatti il primo punto del nostro programma riguarda proprio l'amministrazione. L'amministrazione che ovviamente risente dei trasferimenti che sono ridotti, i trasferimenti dello Stato ai comuni, ma risente anche di carenza del personale, di una questione di organizzazione e anche di un ripristino, di una modalità di rapporto tra politici e dipendenti che deve essere comunque rivista. Noi intendiamo intervenire riorganizzando un pochino tutta la macchina comunale, stabilendo un pieno rapporto di collaborazione con i dipendenti, ma anche con i cittadini, che troveranno sicuramente nel Comune il massimo ascolto e poi troveranno anche un orientamento e anche la possibilità di trovare delle risposte concrete ai loro bisogni. Spesso si è invocata quell'unità territoriale cui accennava prima, ma senza risultati. Basti pensare alla questione tribunale, che non è solo la questione di Rossano, non riguarda soltanto Rossano, la sanità, le infrastrutture, la statare 106, la ferrovia ionica, eccetera. Come intervenire in questo stato di idee e far creare quella unità territoriale collettiva di cui questo territorio ha bisogno? Io ho avuto già occasione di dire questo. Io mi vorrò rendere, se sarò eletto, mi renderò sicuramente parte di Ligente in un coinvolgimento di tutte le amministrazioni di questa fasciaione. Da Mendolare a Crotone, dobbiamo superare la provincia di Cosenza e arrivare fino a Crotone. Le problematiche sono le stesse. dobbiamo incominciare a pensare come una città unica, una città diffusa, cioè un'unica città dove i paesi possono essere considerati come dei quartieri, quindi sulle infrastrutture strategiche, sui progetti strategici per il nostro territorio dobbiamo concordarli insieme e perseguirli insieme. e lo dicevo anche prima, dobbiamo essere interlocutori, non dobbiamo essere dei rivendicatori di diritti, noi dobbiamo essere interlocutori, credibili, autentici, forti delle istituzioni sovracomunali. Se questo territorio, tutta la fascia ionica ha risentito negli ultimi tempi, negli ultimi anni di tagli e di soppressioni varie, parliamo di sanità, ospedali, tribunale, forse non è funzionato qualcosa a livello di unione tra le varie anime di questo territorio, tra l'Alto e il Basso Ionio. Su questo settore come volete intervenire? Ma all'interno del mio movimento, del mio comitato Cariati Pulita, ci sono dei movimenti come le Lampare che hanno già avviato un discorso di territorio nella rivendicazione dei diritti, diritti alla mobilità, anche per l'ospedale, contro le spogliazioni, contro le discariche che ci stanno prendendo i migliori territori. Quindi c'è già un'esperienza in atto. Noi intendiamo proseguire su questa scia e fare in modo che l'intero territorio sia protagonista di un rilancio, di una rinascita, di una nuova civiltà che intendiamo creare proprio a partire dalla fine di questo isolamento in cui forse a qualcuno è convenuto che ogni comune fosse per sé. E invece no, noi dobbiamo ragionare in un'ottica di comprensione perché solo così, secondo noi, si può pensare al miglioramento dell'intera situazione, ma non solo dal punto di vista dei servizi, ma anche per lo sviluppo dell'economia, per la pace sociale e per tante altre cose che portano veramente i territori a progredire. Il futuro del porto e le forme di sostegno ai pescatori, comunque Cariati, è una città da sempre vocata alla pesca e i pescatori in questa città sono tanti. Che futuro si può dare loro? Il porto è già efficiente, naturalmente bisogna tenerlo sempre in manutenzione per evitare le problematiche delle geomarine che si verificano e per i pescatori noi abbiamo avuto il miglior GAC della Calabria rivolto ai pescatori. Infatti abbiamo creato molte opportunità per i pescatori, per i figli dei pescatori, per gli imprenditori dei pescatori. Dovremo continuare quello che il GAC ha già iniziato e ha fatto egregiamente risultando il migliore di tutta la Calabria. Quella del porto è una parabola difficile, lunga, iniziata nel 1965 con i lavori di costruzione e ancora oggi non è un porto che è arrivato anche ad una sua definizione come volano di sviluppo, come quello che era nel progetto iniziale. Il porto attualmente ha bisogno di una manutenzione che non viene fatta, la manutenzione sifonale, deve essere anche dotato di ulteriori servizi. C'è la questione di sofferenza diciamo dei pescatori per quanto riguarda anche la collocazione delle imbarcazioni perché si sta dando maggiore spazio alle imbarcazioni turistiche e meno spazio a quelli che sul mare ci lavorano perché se è vero che le imbarcazioni turistiche portano denaro nelle casse comunali però i lavoratori del mare portano la vita al paese quindi di queste cose noi vogliamo tenere conto e vogliamo anche evitare che i pescatori continuino a vivere in uno stato di assistenza rispetto a quelli che sono i loro bisogni. Sono demotivati i pescatori, non vedono un reale sviluppo della loro attività e invece noi vogliamo intraprendere una serie di iniziative che vadano proprio nella direzione della riqualificazione della loro attività anche per esempio nei periodi di fermo biologico con l'attività di pescaturismo con la conservazione del pesce con il lancio di questo mercato ittico questa cattedrale che è ancora in questo deserto di azioni amministrative e lì aspetta di essere ripristinata il timore dei pescatori è che le spese di gestione di un mercato ittico di quelle dimensioni non possano coprire l'effettivo diciamo guadagno che ci potrebbe essere per il pescato ma noi invece intendiamo fare di questo luogo il mercato ittico il mercato ortofrutticolo in modo che agricoltura e pesca attività primarie siano rilanciate anche attraverso queste iniziative con l'idea di una filiera corte quindi con un lancio economico proprio un rilancio economico di questo settore di questi due settori primari diciamo i punti cardine del programma di Alfonso Cosentino i punti cardine sono valorizzazione del borgo marinaro valorizzazione della cittadella fortificata l'unica in Calabria turismo pesca sostegno alle nuove iniziative sostegno dei giovani ora sostegno ai giovani supporto a tutti i privati che intendono intraprendere che intendono poter ottenere finanziamenti pubblici i famosi fondi europei che si apre un quinquennio importantissimo di fondi con grandi fondi a disposizione e quindi dargli il massimo supporto da parte dell'amministrazione alle iniziative private i punti cardine noi li abbiamo declinati in quattro azioni che sono amministrazione servizi lavoro e territorio giustizia sociale e naturalmente trasversali a questi punti abbiamo la cultura l'innovazione e la cittadinanza forme di partecipazione a tutta la vita comunale alla gestione dei servizi alla gestione del porto noi abbiamo delle eccellenti maestranze abbiamo persone che hanno delle idee abbiamo cittadini che intendono lavorare e noi vogliamo creare queste situazioni di partecipazione noi siamo noi di Cariati Pulite siamo tutti lavoratori per cui noi non vediamo le cose dall'alto ma le vediamo dall'interno sappiamo quali sono le dinamiche sociali sappiamo quali sono i bisogni della gente per cui noi con forme di partecipazione con il coinvolgimento diretto della cittadinanza in tutti i nostri progetti noi vogliamo ricostruire la nostra Cariati attraverso queste cose e qual è il messaggio che Alfonso Cosentino vuole lanciare ai suoi concittadini ai Cariatesi e agli altri competitor agli altri due candidati di queste prossime elezioni comunali ma guarda le elezioni comunali sono sempre una una competizione non sempre dove si dicono le cose reali io mi sono messo in gioco solo per il mio paese ho creduto nel mio paese ho investito tutto il mio lavoro nel mio paese vorrei che anche gli altri candidati facessero la stessa cosa per il paese non per altri interessi che possono essere privati o altro io invito i miei competitor a svolgere una campagna elettorale corretta senza voler turlupinare il voto dei Cariatesi perché i Cariatesi non meritano di essere turlupinati da nessuno il messaggio che assunta Scorpiniti lancia ai candidati delle altre coalizioni allora il messaggio è questo noi siamo un gruppo un comitato che intende assumersi assumere la responsabilità diretta di quella che è la cosa pubblica di quella che è la gestione dei nostri territori noi non intendiamo più delegare a nessuno a commissari o a persone che vengono dall'esterno vogliamo prendere direttamente la responsabilità come cittadini di questo territorio per cui il messaggio è un messaggio sempre di partecipazione in qualunque ruolo noi ci ritroveremo saremo lì per la difesa dei diritti della gente per la civiltà dei nostri territori e cercheremo sicuramente dei punti in comune con gli altri candidati con gli altri schieramenti che saranno in consiglio comunale perché il nostro unico obiettivo è e sarà sempre il progresso dei cariati e la difesa dei diritti della gente e il rilancio dei nostri territori il messaggio ai cariatesi invece? il messaggio ai cariatesi è quello di credere in un imprenditore autentico in un imprenditore di cariati in un imprenditore che ha testimoniato correttezza in varie generazioni il messaggio è che noi ci siamo sempre stati sul territorio sia io come per la mia attività di quasi 30 anni di attività e di presenza sul territorio sia il movimento Le Rampare e anche i gruppi che si ispirano al Movimento 5 Stelle sono gruppi di cittadinanza attiva per cui il messaggio è questo noi ci siamo sempre stati ci siamo adesso e ci saremo sempre per una cariati pulita e per un mondo migliore e per un mondo migliore